Ma appunto, forse l'altezza, ho sofferto moltissimo, per esempio le gambe, le gambe sono troppo lunghe e adesso che faccio l'attrice, per me è un'entica per essere lunga, meno male che esiste Barbareschi che è alto Eh, meno male Ho alcun altro, spero tanto per Gasman per esempio, molto alto, ecco, a parte sono anche tutti e due bravi Però io li accorcirei pure Ma quanto sono lunghe? Possiamo misurarle? Misurarle? Sì, le gambe Le gambe? Tu sei alta 1 e? 85 Benissimo, io, Marco, vieni qui, Marco, vieni qui, Marco Mi prego, aiuto Mi trovate un metro? Ciao Marco, tutto bene? Come la Stefania? Che devi fare Marco? Allora, Marco, un metro, ecco qui Ma veramente, mai pensavo che stava scherzando? Marco Per me è un grande onore insomma È il tuo momento Marco Ma lì un misuratore dei gambe professionista praticamente Professionista Da dove si parte? Da qua? Da sotto del bacino? Così? Ma è Marco? Marco, vai giù Nel senso buono Allora Marco Marco, ti prego, ti prego, stai con noi, ti prego Di qualcosa, ti prego Allora, sono un metro e cinquanta, meno ventidue, un metro e... Ma con la matematica stai a posto? Un metro e ventotto Un metro e ventotto Un metro e ventotto E il resto è tutto il cervello, vero? Sì Grazie Marchino Sei fortissimo, grazie, un bacio Grazie mille, sono in paradiso adesso In paradiso, in paradiso Ma vogliamo tenerlo con noi, non lo so Marco? Vogli ti portare a casa mia Marco? Sì, sì, anche adesso La scherzavos